Con una prendo 100 euro, se prendo 120 ti posso fare 100. Senza protezione si può fare? Con una carina anche l'amore. Ci sono ancora tantissimi siti che stanno sponsorizzando ancora la prostituzione. Vuoi pure venire a casa mia nel caso? Ma la sera posso raggiungere tutto il quale debito. Una persona pubblica annunci vuol dire che il cliente ci va. In questo periodo quante persone più o meno stai incontrando? Ma sono 6, 4 maestro. Il governo deve aiutare anche queste persone. Perché lo sappiamo che oggi davvero si procedisce perché lo fanno proprio per esigenza. Per un primo piatto pure lo fanno. E' arrivato il momento di fermarci anche su questo lavoro. Se non stiamo a casa, chi direi? Questo coronavirus non lo affrontiamo mai. Questa è Napoli completamente deserta. Per combattere il coronavirus il governo ha disposto la quarantena in tutta Italia. Significa che nessuno esce di casa se non per un valido motivo. Anche la prostituzione sembra essersi fermata. Incontriamo infatti una sola ragazza a Corso Garibaldi. Anche se per strada non ci sono più prostitute, c'è un mercato che sembra non essersi fermato. Quello delle escort che ricevono nelle proprie case o addirittura raggiungono il cliente. Ci sono ancora tantissimi siti che si fanno sponsorizzando ancora la prostituzione. E' arrivato il momento di fermarci anche su questo lavoro. Io non giudico nessuno chi fa questo lavoro perché è il mestiere più antico del mondo. Se non stiamo a casa, chi direi? Questo coronavirus non lo affrontiamo mai. Ci sono tante mamme che stanno ancora lavorando. E questa cosa mi fa tanto male. Perché rientrando a casa hanno i propri figli, possono trasmettere questa malattia ai figli. Ma è vero che nonostante l'emergenza Covid-19 è possibile prendere appuntamento con una escort. Abbiamo provato a contattarne qualcuna telefonicamente consultando gli annunci sul web. Ciao, ho letto l'annuncio. Sei a Napoli? Tesoro, io ti sei a*****o, conosci l'azienda? Quanto mi viene un'ora? Un'ora? Tesoro, un'ora prendo 100 euro. Ne prendo 120, ti posso fare 100. Con le protezioni o senza? Ora tutto coperto, tesoro. Tutto coperto, per il virus, diciamo. Bravo. Una persona pubblica non ci vuol dire che i clienti ci danno. Ma io parto da un minimo a 50 faccio di tutto, sono completissimo. Senza protezione si può fare? Con un regalino in più amore, un regalino in più amore, faccio tutto quello che vuoi. Ho conosciuto la bambina, questo mestiere. Ho sempre usato le precauzioni, oggi sono qui ringraziando Dio, sto benissimo. Però adesso qui non stiamo parlando di precauzioni, stiamo parlando di avere almeno un metro e mezzo di distanza. Per fare un cliente un metro e mezzo di distanza non si può avere perché si deve avere un rapporto. Se è vero che molte si prostituiscono per poter mangiare, i rischi collegati al coronavirus sono diversi. Senza dimenticare che il decreto del governo impone di stare a casa. Il Covid al momento è una malattia che prevede altre vie di contagio. Però chiaramente siamo di fronte a un virus di cui si conosce poco e certamente non si conosce tutto. Si frequenta un ambiente, prevedendo da più persone sconosciute che frequentano tutto lo stesso ambiente, tutta la stessa persona e non c'è sanificazione. E soprattutto c'è il distanziamento sociale che prevede di stare a una certa distanza perché per fare certe cose non si può stare al metro e mezzo di distanza. Chi frequenta quest'ambiente può contaminare, può contagiare anche la escort. E a suo modo la escort può diventare puntore di questo numero di frequentatori dell'ambiente. Alcune escort non solo accettano di avere rapporti sessuali senza protezioni, ma addirittura sono disposte a uscire di casa, raggiungendo il cliente. Sono 50, a casa mia sono più appassionata. Vuoi pure venire a casa mia nel caso? Ma la sera posso raggiungerli, tranquillo, mi devo raggiungerli di pomeriggio, vengo con il cazzo. In questo periodo quante persone più o meno stai incontrando? Perché lo sai, con questo fatto del coronario mi sono un poco preoccupato. Mi sono passato 3-4 massimo. Io sono riuscito a cambiare vita e da poco lavoro in un supermercato come Cassiera. Il governo deve aiutare pure queste persone, perché non sappiamo che oggi davvero si prostituisce perché lo fanno proprio per esigenza, per un primo piatto oppure lo fanno. Allora in questo momento dobbiamo chiedere anche a loro di starci vicino a tutti quanti noi. Allora in questo momento dobbiamo chiedere anche a loro di starci vicino a tutti quanti noi.